Stupenda giornata, quella di ieri mattina al Cinema, Teatro e Sferia. Oltre 250 bambini delle scuole elementari Bastiole si sono ritrovati per una giornata all'insegna del palio. La giornata si è aperta con la presentazione dello standardo del mini palio 2018 realizzato dagli alunni Gioia Tosti e Leonardo Macinelli della classe terza, sezione E, dell'IC Bastia 1, scuola secondaria di primo grado Colombo Antonietti di Bastia Umbra. Poi sono state proiettate le immagini del mini palio 2017. Finita la proiezione è stato il turno dei bambini che hanno aperto un vero e proprio dibattito con i Capitani dei Rioni, un simpatico pop show che ha evidenziato l'interesse e la fantasia che i più piccoli riescono a tramandare con entusiasmo e spontaneità. La manifestazione si è poi spostata al centro San Michele dove il centro Coppitalia ha offerto una merenda a tutti i partecipanti. Allegria, gioia da parte dei bambini e tifo per il proprio rione di appartenenza sono stati il motore portante della giornata. Ascoltiamo la domanda.